Era tutto evidentemente premeditato, lo conferma la dinamica dei fatti. Una violenta aggressione nel cuore della notte attorno alle tre ai danni del titolare dell'American Bar a Fragagnano in via Silvio Pellico. Ad agire due fratelli di origine marocchina ma con regolare permesso di soggiorno, Adou Mustafa di 45 anni già noto alle forze dell'ordine e Adou Abdel Rahman, 43 anni, entrambi arrestati in flagranza di reato per concorso in tentato omicidio dai carabinieri della compagna di Manduria, diretti dal capitano Mazzotta, con la pattuglia del nucleo operativo e radiomobile intervenuta sul posto, sotto la guida del tenente russo, al fianco dei colleghi della stazione di Fragagnano, agli ordini del luogotenente Tripaldi. I militari hanno ricostruito i fatti. Il fratello maggiore è entrato nel locale colpendo violentemente l'immaggio, questo il cognome della vittima, prima con un'ascia e continuando poi la sua opera di sangue con un grosso coltello, colpendo con feroce il viso e la gola. Zone che non lascerebbero dubbi sull'intenzione di uccidere. Dopodiché, lasciandoli a terra il corpo in una pozza di sangue, la guzzino è fuggito. Ad attenderlo, con l'auto motore acceso, il fratello minore è suo complice. Ma raccolte tutte le informazioni e in seguito ad accurate ricerche, i carabinieri sono risaliti e due criminali. Nella loro abitazione, inoltre, hanno ritrovato le armi e vestiti ancora insanguinati. Di maggio è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale Perrino di Brindisi e stando ad una prima prognosi e nonostante la gravità delle ferite, non sarebbe miracolosamente in pericolo di vita. Proseguono le indagini dei carabinieri per capire il movente che si nasconde dietro il crimine, ma al momento si pensa ad un chiarimento per questioni private tra i tre.